Lo ricordo perché si fosse appena sintonizzato, praticamente appaiati, era in vantaggio Monterigioni di neanche 100 metri, quindi tutto può accadere. Non si sa mai, magari in questo, anche in questo minuto possono recuperare, se non ci arrendiamo. Assolutamente, Cagli può aver recuperato e vediamo che cosa accade se ce la fa Cagli a recuperare o se Monterigioni per la prima volta che lo scorso weekend è andata male la gara con le biciclette, se riesce a portare a casa. Alessandro, è veramente distrutto, pensate che quando è arrivato pesava 20 kg in più, è un'ottima cura questa, venite a pedalare qui in via Teolada se dovete perdere qualche chilo. Ormai è diventata una palestra, vai, pedaliamo! Ultimi 10 secondi, attenzione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sto, fermo! Fermo, Luca, bravissimo! Err, prego! Prego, possiamo? Con piacere! Piacere, pensa di vincere, invece noi abbiamo fatto 32 km e 26 metri! Allora, avrà mantenuto il vantaggio Monterigioni? Attenzione, 32, 592 metri! L'ha mantenuto, è incrementato e vince Monterigioni! Bravo Alessandro! Bravo Alessandro! Bravissimo, bravissimo Alessandro! Complimenti ai ragazzi di Monterigioni, complimenti naturalmente anche alla squadra avversaria, ma questo è il butteggio! Ecco, è così, divertente! 5-2!